eh mi hanno hittato a me si fuciano vuoi ruotarlo? si 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 certamente si aveva il level mark è capace che era un single mettila ti passa la finestra oh un call 2 rival qua oh quelli che li si è piato un cecchino frate follia oh compà se muoio se muoio c'è qualcuno là di là dove? proprio sul mio ping bianco ho visto qualcosa muoversi io lo sapevo lo sapevo lo sapevo arrivo sta bruciando si lo è stato ancora? bomba è finito è finito noice grazie a tutti